Abbiamo qui la storia del giornalismo, Bortolotti, oggi è il giorno della mortadella, in Bologna mangiando mortadella si può salvare? È una delle pochissime chance che abbiamo per poter sperare di arrampicarci verso una questione classifica meno incongrua, fuori dallo scherzo io credo che sia positivo che sia un'azienda come la Villani Salumi che danno ancora fiducia a Bologna, perché in effetti il contesto societario, tecnico, ambientale non è proprio entusiasmante, però bisogna avere fiducia a Bologna, secondo me la tifosaria deve comunque avere fiducia, deve anche spronare la società, i giocatori, lo staff tecnico lavorano un po' meglio perché onestamente siamo in questa condizione vuol dire che siamo in questo modo, secondo me è più un problema di squadra, tecnico, condottore? Trovo che il tecnico abbia serissime gravi responsabilità e la squadra sia scarsa, depauperata ma non tanto scarsa come partecipiata, sono queste mie parole. Grazie, buon lavoro. Grazie, ti do il mio bigliettino se hai stigione per rispondere. Eccomi.